niente da fare per l'integrazione dello stipendio al 70 per cento non c'è traccia nel decreto mille proroghe così per migliaia di lavoratori toscani con contratti di solidarietà resta solo la cassa integrazione al 60 per cento piombino è una delle realtà più danneggiate dalla scelta del governo ma sentiamo pietro di lazzaro negativa perché nel mille proroghe anche questo anno è stato dato un 10 per cento anziché aiutare i lavoratori in difficoltà vengano penalizzati sappiamo già che molti deputati si stanno muovendo per far correggere questo tiro e noi ospitiamo che anche i deputati toscani si adoperino affinché questo sia inserito quanto prima sia corretto proprio per aiutare i lavoratori in una fase difficile analisi amara quella dei sindacati che ci hanno provato fino alla fine a livello locale regionale confederale nulla da fare nel decreto mille proroghe del governo il prima firma matteo renzi non c'era tanto sperata proroga dell'integrazione dello stipendio per i contratti di solidarietà una misura che ha costituito negli ultimi due anni un salario quasi decente ai lavoratori in cassa integrazione quest'ultima da diritto al 60 per cento della pagabasi col contributo di solidarietà si saliva al 70 per cento ora resta solo la cassa molti perderanno il 20 per cento dello stipendio in 24 mesi è in realtà difficili dal punto di vista occupazionale come piombino con la rinascita della lucchini tutta in divenire il futuro potrà pure far tirare un sospiro di sollievo ma il presente è incerto e povero come mai e gli operai se la prendono soprattutto col governo la gente sta male perché insomma chi ha in solidarietà vuol dire che non lavora è un sistema per poter lavorare tutti un po' meno e guadagnare e cercare di passare il mese arrivare alla fine del mese ancora una volta ci ha punito in questi due anni ci vado a rimettere circa 200 euro e sono tanti soldi e non so come bisogna andare avanti in queste condizioni perché il governo da una parte dà gli 80 euro e dall'altra parte dalleva 200 e quindi